ma no salve brava gente rieccoci qua ritrovati su destron empire tecoco destron per un altro video lo sto rifacendo è la seconda volta perché mi sono dimenticato di mettere la registrazione bisogna essere proprio dei furbacchiotti e porca cazzavacca vabbè comunque questo è un video che faccia solamente in italiano diversamente dai soliti e oggi in questo video parliamo guarda caso guarda caso ancora del gx 100 il nostro amatissimo trago spaziale che ormai l'avete già visto in tutte le salse non lo potete più vedere destron per favore risparmiaci invece vabbè comunque perché parlo di questo per due motivi innanzitutto sono state annunciate le option part e poi che sappiamo già tutti la paraculata di bandai era già annunciata e poi è stato messo sul canale ufficiale della bandai il video in cui okazaki il responsabile il nostro amatissimo casati responsabili della linea solo faccio con chi fa lui direttamente l'unboxing di questo trago spaziale e adesso la vedremo assieme molti di voi penseranno ma ma adesso non arriverà tra poco perché dovrebbe arrivare alla fine dell'anno ma scusami lo fai te l'unboxing lo apri e ci fai una bella recensione ragazzi ve lo dico sinceramente io il drago spaziale mi arriverà ma non lo aprirò in in un prossimo futuro ho dei le esigenze personali mie che sono praticamente due una che io purtroppo ho problemi economici abbastanza insomma me li porto sempre avanti c'è voglio dire uno che fa questi video che anche questi hobby dovrebbe essere economicamente messo meglio del sottoscritto io diciamo che mi arrampico veramente sui muri sulle pareti e su tutte le cose possibili di sto mondo oltre che sulle bottiglie di whisky da 4 literi e questa ultima la capirà chi ha visto uno dei miei video in passato e per cui cioè avendo la scatola chiusa di amazon se dovesse avere problemi veramente imminenti dal punto di vista economico gliela posso rimandare così e rifarmi dare i soldi uno poi due bisogna vedere come va anche il prezzo di questo gx100 perché se il prezzo crolla entro un mese gliela rimando così indietro e me ne prendo una da un altro store che magari non me lo fa pagare 10.000 yen 15.000 yen in meno e per me sono 10.000 15.000 yen è tanto non mi cambia la vita ma è tanto e poi l'ultimo cosa è che io purtroppo non avendo spazio qua a casa mia osaca questo sicuramente me lo dovrò portare in italia dai miei e preferisco avere la scatola imballata perché imballata è più rigida più resistente una volta aperta la scatola inutile tante cazzi e mazzi eccetera tirato fuori e rimesso lì dentro non è più resistente come all'inizio per cui con la scatola con dentro magari anche con la scatola esterna mi auguro che ci sia imballata per bene e lo porterò spero come bagaglio a mano anche se sono sicuro che come bagaglio a mano non me lo faranno passare non so non so in futuro ma me lo dovrò spedire non so che cosa comunque avere preferisco avere una scatola cioè vergine non aperta ecco per cui scusatemi se non lo recensirò ma lo dico già qua ufficialmente per cui accontentiamoci di questo video di okazaki che comunque è fatto bene e ci fa capire tanti punti e adesso ok entriamo nel merito di questo mio video prima cosa vediamo il gx 100 e option set con le varie parti ormai questo lo sappiamo già non c'è bisogno che ne parlo io su uno dei miei video in passato l'abbiamo visto in maniera anche abbastanza approfondita però non sapevamo non sapevamo del prezzo il prezzo mi sono detto saranno se 15 mila yen sicuramente non supererai 20 mila yen fetente bandai 18 mila yen con le colliva siamo sui 19 mila e 800 yen cioè stiamo superando i quasi 20 mila e c'è il prezzo in cui ti compri un solo faccio cochino il getter arc costa molto di meno adesso anche il getter go a questo prezzo qua il trader g7 costa di meno e stiamo parlando di vediamo si fa vedere tutti i componenti ecco di un qualcosa che è così cioè non puoi fare non è che il guy king che vedi in alta sinistra te lo monti così e basta ci puoi giocare no perché ha bisogno comunque dentro dello scheletro del guy king che trovi nel gx 100 una cosa che è bene o male un ammasso di plastica perché tutte le parti saranno quasi tutte in plastica lo paghi 20 mila yen va bene grazie bandai sappiamo che era annunciata ma io speravo in 5 mila yen in meno ma sappiamo che bandai non ha limiti le paracolate di bandai sono infinite guardatevi le strade non le strade di bandai le paracolate di bandai sono infinite ormai è questo lo sappiamo punte basta mettiamoci il cuore in pace e adesso ripartiamo da capo visto che l'ho già fatto sto video qua ma ripartiamo da capo ok vediamo il nostro amato okazaki che ci presenta il gx 100 che ha una scatola da urlo questa scatola voto 11 su 10 perché è favolosa ad essere oggettivi è veramente mamma mia la grafica di questo drago spaziale sembra visto così sembra fichissimo e anche qua di fianco la chiusura riccio eccetera e poi anche tutte mamma la scatola voto 11 veramente bellissima come è fatta e adesso con tanto di maniglia spero che la maniglia sia magari utilizzabile no beh non penso di no che con la scatola esterna e mi immagino che ci sia non possa essere utilizzabile la maniglia comunque è bello bello mi sembra di gift set veramente che conoscevamo noi da piccoli mi fa veramente mi esalta adesso si apre donne c'è questo bel cartella in cartone mi dice questo qua è solamente un bonus per il primo lotto io non penso che uscirà il secondo lotto del gx 100 molti dicono che rimarrà venduto comunque vediamo questa è la prima come sapete sono le tre immagini che sono contenute in questo primo lotto e la prima è l'immagine del guy king poppy degli anni 70 io questo so che dovrebbe essere l'immagine del jumbo machine der chi avevo anche non so se con poppy intende il jumbo machine der o kazaki ma comunque detto l'illustrazione del poppy era stato presentato come quello del jumbo machine der come illustrazione poi voi che ne capite molto più di me e correggetemi per favore se sbaglio e questa è anche l'immagine stupenda di come è fatto dentro il drago spaziale che è l'immagine che si trovava nel poppy chogo king anche questo negli anni 70 è un'immagine che si trovava per cui non è stata ritoccata ovviamente però se noi guardiamo questa immagine una cosa che a me mi ha incuriosito molto si è parlato delle proporzioni che non sono ideali non rispettano l'anime di questo drago spaziale però noi guardiamo questa illustrazione e vediamo che effettivamente anche qua il corpo è abbastanza corto rispetto è abbastanza piccolo rispetto al drago spaziale e le gambe sono grosse rispetto al drago spaziale che conosciamo noi e questo è una per farsi le varie seghe mentali io non ho mai avuto questo poppy chogo king degli anni 70 per cui magari chi ce l'ha mi faccia sapere il suo parere correggetemi pure io penso che sia tutto dovuto al fatto anche se vogliamo farci la Volusion Protect, cioè la chiusura a Riccio non puoi fargli un corpo troppo grosso perché se no non si chiude non so se questo chiusura si chiudesse a Riccio però penso che se uno vuole fargli, mettergli un po' di gimmick purtroppo il design alla fine deve essere riadattato in questa maniera qua in Giappone una cosa famosa il Daiku Mario con le proporzioni migliori in assoluto è il Jumbo Machinder che viene definito il King of Jumbo Machinder che è il Drago Spaziale, che ha dei prezzi allucinanti e so benissimo che se vendessi tutti e due i miei reni non riuscirai a comprarmelo perché il Jumbo Machinder probabilmente più costoso che c'è al mondo probabilmente insieme al Gundam fatto dalla Cepiratti e poi l'ultima illustrazione è che è di Kazuhiro Ochi che è bellissima che è il migliore illustratore in questo momento dei super robot ed è veramente fantastica questo è bello da tenere veramente in background e da mettere anche come screensaver sul PC bello, bello, bello mi raccomando è solamente per il primo lotto per cui prenotate tanto va benissimo che non ci sarà un secondo lotto del Daiku Mario e adesso ci presenta quello che vediamo dentro con questo bellissimo coperchio interno che ti fa intravedere vedete che c'è il Guy King qua in alto a destra e il Drago Spaziale che non è un blocco unico perché i piedi vedete qua che poi li dovete attaccare sono separati vanno attaccati e poi vedete che ci sono anche le due unghie perché questo ha tre unghie ma se ricordate anche il Gex 05 ne aveva due di unghie se uno vuole riproporlo vuole ricostruire magari il Toys originale che anche quello se non sbaglio ne aveva due unghie e adesso Okazaki te lo monta e pensate che ve lo fa vedere Okazaki è imbranato in una maniera devastante l'ho visto più volte e adesso ce lo fa vedere già montato e per prima cosa ti va a spiegare il Guy King e qua ti spiega vedete qua i piedi qua le gambe qua le cosce poi il corpo qua gli avambracci eccetera sono tutti in metallo ti spiega metallo 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 puro belle pesanti poi il back shredder ti fa vedere tutte le gimmick e poi ti fa vedere poi il davanti il il killer bite il killer bite eccetera bello questo Guy King è stupendo molti si augurano che venga venduto solamente il Guy King anche in futuro perché veramente comunque è proprio bello può essere scomposto nella parte 1, 2, 3 ovviamente in maniera da potere la parte 1 e 2 essere messa dentro il drago spaziale nella sezione qua nelle catapulte lì così e ricreare questo la modalità base mode che però nell'anime è una cosa assurda però l'Ukazaki è puntato molto su questa modalità che è molto innaturale però e poi ti presenta le popinica le mini popinica che sono stupende sono tutte in metallo questo è il pezzo che a me piace di più di questo GX 100 sono sincero poi si muovono anche la testa eccetera anche il Nessa si muovono le ali il Bazzara, Skyra Nessa sono veramente stupendi ma hanno una gimmick sono andato via di testa hanno le calamite dentro che tu puoi metterle dentro e vedi che sono anche sfasate come calamite fatte apposta per mettere dentro dietro a sinistra il Bazzara poi dietro a destra il Nesser e davanti lo Skyler e così sono bloccati dalla calamite e non avete paura che si gigottino dentro e magari si scalfisce la verniciatura che è ottima e poi ti spiega come si muove click clock click clock click clock il collo qua che si apre comunque poi la bocca del drago spaziale ti spiega l'Hunger che si apre così ti fa vedere le mini popinica dentro anche lì si apre da una parte dall'altra poi ti spiega che i cingoli si muovono beh ci mancherebbe anche altro e poi ti spiega che la coda ci sono i vari ball joint che è molto movibile con questo bel rosso di plastica plasticaccia da spiaggia e poi ti spiega che si muove ovviamente la mini popiatrice dentro 360 gradi ma sono cose che sappiamo già e poi ti andrà a spiegare che qua se schiacci i bottoni ti fa le due sigle ma a me quell'autoparlante lì sulla gamba mi dà un fastidio che ragazzi non so a me non è che piace tanto si è bello come chimico ma l'autoparlante lì in bella vista non è il massimo e poi ti dice ovviamente fa l'abolution protecto si chiude a riccio eccetera l'amica te lo fa vedere lui ti fa vedere queste ferme immagini perché essendo un branatino l'amico sarebbe un po' un problema è ok qua così mi raccomando prenotatelo dice ma quello che a me ha messo un po' di timore ragazzi è che innanzitutto vi dico i miei punti positivi di questo video presentativo sono stati questi 4 item che abbiamo qua davanti il Gai King con le 3 mini popinica che sono bellissime e tutte in metallo belle pesanti fanno veramente il loro porco vedere ma se Okazaki San spiegava guarda che qua è metallo le mini popiniche sono in metallo il Gai King qua è metallo i piedi sono in metallo gli amabrazioni in metallo ma sul drago spaziale niente come si chiama silenzio di tomba questa parte in metallo e qua in metallo vuol dire se tanto mi da tanto che ho paura che questo drago spaziale sia un bel ammasso di plastica vedremo quando mi arriverà la scatola non la aprirò ma la potrò comunque pesare e pesando la scatola che avrà anche la scatola esterna si vede subito con quell'imballatura lì con anche la scatola esterna eccetera se la scatola ti pesa 5-6 chili vuol dire che il drago spaziale col Gai King assieme non è che ne potrà pesare 2 sarà un po' difficilotto e poi visto che questo è il GX100 è qualcosa di commemorativo e Otafa lavora con Bandai butterà fuori il suo video molto in fretta per cui io vedendo il video di Otafa non potrò fare un video come questo perché non posso usare il video di Otafa che è un youtuber che si guadagna facendo i suoi video se facesse una cosa così mi massacrerebbe e avrebbe tutte le sue ragioni perché gli porterei gli ascolti magari vedrò il suo video vedrò dove lui dice questa è la parte in metallo queste sono in metallo queste sono in metallo queste in plastica perché è abbastanza onesto queste cose le dice lui e magari non so metterò di ferme immagini nel mio video vi dico guarda come Otafa dice così 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 qua eccetera per cui possiamo sapere che il drago spaziale avrà queste componenti in metallo apposta di quest'altro io spero che questo video vi sia stato di aiuto e fatemi sapere i vostri pareri ci vediamo ancora ai prossimi video grazie della visione spero che questo sia andato in porto perché fare un terzo uguale vado via di testa e ci vediamo ancora ai prossimi video grazie a tutti i amici e ci troviamo ancora qua su Destron Empire ciao ciao brava gente